C'è l'accordo preliminare fra il governo tedesco al management della compagnia di bandiera Lufthansa, colpita dalla pandemia di coronavirus. Un salvataggio da 9 miliardi di euro. In sostanza, il governo di Berlino si intesta al 20% del pacchetto azionario del vettore e incassa due seggi del Consiglio di Sorveglianza, in rappresentanza dell'esecutivo. Il governo avrà quindi potere di veto. La proposta ora investe una società che in precedenza aveva avuto molto successo e definita in una crisi senza precedenti. Adesso c'è un aiuto importante, col quale Lufthansa potrà tornare a volare senza essere nazionalizzata, perché questo non deve essere l'obiettivo, ha chiarito il conservatore Marcos Soder. Il pacchetto di aiuti dovrà essere approvato dalla Commissione europea, che nelle scorse settimane ha dato il via libera agli aiuti degli stati per 10 miliardi di euro ad Air France KLM. Nel momento peggiore della crisi, Lufthansa ha avuto a terra il 90% dei suoi aerei, con perdite da circa 800 milioni di euro al mese. Il salvataggio implicherà una limitata riduzione della sua flotta.